Un imprenditore, un presidente, un editore e anche un cigianese. Benito Butali era tutto questo, è scomparso all'età di 94 anni, ne avrebbe compiuti 95 a fine settembre. La sua storia inizia infatti proprio a Civitella in Valdichiana e nella frazione di Cigiano di cui Butali era originario nasce il 27 settembre 1924, una storia che indubbiamente si lega alla città di Arezzo per tanti motivi. Primo fra tutti ovviamente il fatto che Butali fosse uno storico imprenditore nel settore degli elettrodomestici, dalla fondazione dunque della Casa dello Sconto fino all'arrivo poi del gruppo Euronics. Una storia che si intreccia con quella che è stata la sua grande passione, ovvero la televisione proprietario di Teletruria dai primi anni 80, l'ha portata avanti assieme al suo fondatore e direttore storico Gianfranco Duranti, anche lui recentemente scomparso. L'altra grande passione è quella per il calcio, lo porta ad essere anche presidente dell'Arezzo dal 1986 al 1989. E proprio per ricordare l'ex presidente la società Amaranto disputerà la partita amichevole che è in calendario giovedì prossimo 12 settembre a Monte San Zavino con il lutto al braccio. L'occasione invece della partita che è in calendario per il 15 settembre a Crema, la società Amaranto chiederà di osservare un minuto di raccoglimento in ricordo di Benito Butali. Alla famiglia giungano ovviamente le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione. La camera ardente è stata allestita presso la Croce Bianca di Arezzo. I funerali si svolgeranno sabato mattina al Duomo di Arezzo alle 10.30. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Cigiano.